e quando passi di qui la domanda è legittima e spontanea ma come si è comportato no ma per pasqua bene pasqua no pasqua come a pasqua benissimo adesso adesso malissimo a pasqua terrorista islamico è stato una cosa entra dentro tu aspetta che sali Aspetto che sali La corriera parte La corriera va via Si accomodi Le dai cacci sulle palle È 94 anni Quasi 95 a luglio Voglio organizzargli una festa pazzesca Ci sto a pensare Addio oggi pomeriggio A me Androni mi dà una carica Una forza Un'energia pazzesca È un ragazzo veramente fantastico per me È un amico vero E ce ne stanno pochi Con la sensibilità di Andrea Con il cuore di Andrea Perché ci vuole il cuore nella vita Ci vuole essere veramente Fantastici Come lo è lui Si è proprio così Quindi circondatevi di sta gente Che ha il cuore Persone fantastiche, stupende, belle Che ti fanno sta bene, ti fanno ridere Ti fanno Tutto Tutto c'è un po' più di leggerezza E si pensa meno alle cagate materiali Le puttanate Che non servono a niente Quindi Grazie Andreone